Stasera e noi cambiamo argomento perché per la prima volta nella storia ci saranno anche atlete dell'Arabia Saudita, le universiadi della Campania, risvolti politico-sociali, della competizione internazionale che entra nel vivo perché sono arrivate le prime delegazioni dei 128 paesi partecipanti. Allora andiamo all'aeroporto di Capodichino con Giuseppe De Caro. Un pomeriggio dall'aeroporto di Capodichino a Napoli in mattinata sono arrivate le prime delegazioni di atleti che dal 3 al 14 luglio parteciperanno all'universiade estiva che Napoli e la Campania ospiteranno. Noi ci troviamo all'interno della Welcome Area, all'area di benvenuto, dove gli atleti vengono accolti proprio stamattina. Sono arrivate le squadre di calcio maschile e femminile del Sudafrica ma abbiamo visto anche atleti neozelandesi, australiani, sudcoreani, sloveni, finlandesi. Insomma un vero e proprio clima internazionale, quello che si respira qui. Sì, fino all'11 luglio continueranno ad arrivare senza interruzioni le delegazioni. Ricordiamo che all'universiade partecipano 9.300 fra atleti e delegati. Con noi c'è Francesco Milano che è il responsabile della Welcome Area qui a Capodichino. Francesco, come stanno andando le operazioni di accoglienza? Svolgono qua dentro la parte diciamo burocratica. Una volta che sono pronti escono fuori, le delegazioni, gli atleti li aspettano qui nell'area di attesa. Qui abbiamo previsto i bus già pronti, con i bagagli vengono caricati e poi andranno tutti quanti, ognuno alla propria destinazione finale. Ricordiamo che stasera intorno alle 20 al porto di Napoli arriverà la prima nave da crociera che ospiterà gli atleti. Domani arriverà la seconda. Lì saranno ospitati su queste navi circa 4.000 fra atleti e delegati. Mercoledì alle 21 allo stadio San Paolo di Napoli, fortemente rinnovato la cerimonia d'apertura. Gli atleti saranno impegnati in ben 18 discipline. La delegazione più numerosa è quella italiana con oltre 400 atleti. Le più piccole sono quella del Bangladesh e delle isole africane di Sautome e Principe con soli tre atleti. Per la prima volta saranno all'Università dei atleti dell'Arabia Saudita una decina e una delegazione dal Kosovo. La cerimonia di chiusura il 14 luglio in piazza Plebiscito a Napoli nel mezzo le gare. Antipasto il 2 luglio e il 3 luglio durante la giornata prima della cerimonia d'apertura con le qualificazioni di calcio, basket, tuffi, pallannuoto e ginnastica artistica. Dall'aeroporto di Capodichino a Napoli è tutto, la linea può tornare allo studio. Ed è una rivoluzione della viabilità, quella varata dal comune di Napoli in concomitanza con le universiadi. Da domani alla 14 luglio tanti divieti di sosta e strade chiuse al traffico. Tra Chiaia e fuori grotta cancellati per tutto il periodo delle gare, 875 posti auto sulle strisce blu necessari ai bus degli atleti. Cambia poi il senso di marcia in Viale Gramsci, in Via Giulio Cesare, mentre in Via Acton in salita il transito sarà consentito soltanto agli autobus dell'Universia. Di traffico interdetto a tutti i veicoli eccetto i residenti in Via Caracciolo, tra Via San Nazaro e Piazza della Repubblica. La NM potenzia il servizio bus di tre linee, sono la 151, 196 e 502. e punta all'apertura notturna della metro fino a luna di notte per tutto il periodo delle gare, ma su questo è in corso una trattativa con i sindacati. Intanto vedete la conferenza stampa degli assessori Clemente e Calabrese che si è appena conclusa a Palazzo San Giacomo. Approfondiremo naturalmente l'argomento della prossima. Grazie a tutti.